Le fantasie sessuali possono diventare desideri? In alcuni casi le fantasie sessuali rimangono tali, ovvero rimangono solo ed esclusivamente dei pensieri, delle immagini o dei sogni nella mente della persona, ma non vengono in nessun modo agite. Spesso capita invece che le persone abbiano delle fantasie sessuali che sono desideri, ovvero che hanno voglia di realizzare.